I contadini ricominciarono ogni elemento e in quel periodo, quando c'erano la transumanza, si mangiavano molto veloce, e si mangiavano molto veloce, proprio perché le pecole non andavano molto a te, la carne di anduti veniva travessata per ottenere proprio quello che serviva, cioè un cibo accettabile. Stavo dicendo che di voi ora, un attimino del pane, così come lo facciamo noi adesso, come lo conosciamo noi adesso, escludiamo tutta l'evoluzione che ha avuto il pane, non potete credere ovviamente che il pane che mangiamo te adesso sia il pane del portadino dell'inizio del settore scorso. Il pane del grano, non sai guarda, il pane del grano, da Dieter Frank, uno era guarda il pane del grano e era finito. bene, come si faceva il pane? Il pane si faceva con farina di grano, attenzione, pure qui trafiare la finestra sulla storia, tanto per dircela così, per calare la micro storia con la visita di Zadartelli nel 1902 in Basilicata c'è stata l'immagrazione della legge speciale della Basilicata. Questo è venuto qua, si è messo in mano i capelli, ne aveva pochi, è morto nel 1903 di Zadartelli dopo la visita di Zadartelli e ha capito che peggio non potevamo stare. Se volete un paragone, guardate l'Africa peggiore di oggi e potete avere una vaga idea, diciamo, un'idea già buona di quello che ha potuto vedere questo movimento qui. E la legge che ne è stata pubblica dopo la visita di Zadartelli nel 1904, ha aperto a microcredito i contadini lucani. Il microcredito significava 500 lire di prestito l'anno, che per darvi un'idea di quanto valevano 500 lire, un chilo di pane costava 38 centesimi, 40 centesimi, un chilo di carne, una riva e trenta. Quindi 500 lire, diciamo, ha il valore che oggi, che ne so, di due di maniera, che ne hanno fatto incontro di sfera. E serviva per conderare solo le sementi o gli attrezzi. In più, tra il 1902 e il 1915, affoggia, quindi qua uno sputo da noi, un genetista, se trovo il nome, lo dico, non lo so, non lo ricordo, ma, insomma, stimolato dal senatore Cappelli, selezionò una semente che si chiama ancora oggi senatore Cappelli, grano dopo appelli, che è un tipo di grano nullo molto resistente. Con questo grano che si è diffuso tra il 1915 e il 1920 nelle nostre zone, con questo tipo di grano si è cominciato a panificare. Per cui il grano di materia, il grano di materia è fatto con questa varietà di grano e il grano di 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 grano. Ma, ovviamente, siccome costava un sacco di soldi questo grano, costava valutare, costava grano di grano di grano, si aggiungeva una certa percentuale in patate, in patate messe e schiacciate, che è, le patate sono un abito che si può aggiungere al pane e questo gli dava nobilezza al pane e gli dava anche una maggiore capacità di resistere al tempo, si poteva mangiare per più giorni. Quando pane mangiava un mondalino mediamente? Ve lo dico subito. Mangiava tra 600 grani e un di grano 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 di grano, di grano di grano di grano di grano di grano di grano. Dopo di che, chiarito come si faceva il pane, chiarito questa cosa, vediamo un po' che cosa succedeva al pane. Il pane impastato, quello della madre, quello che ha raccontato Francesco, veniva portato al frumo. I forno di quelli che ha visto Francesco, che sono degli anni 50, erano delle diproposizioni dei forni medievali. Guardate che Ferdadario possedeva tutto, costruiva il forno e per andare a cuocere il panno del forno si pagava la tasse. C'è documentata una diarriba tra il Vescovo di Venosa e il Principe d'Oria per un forno a San Pelle, perché possedere del forno significava controllare quello che facevano con lei. Anche in questo caso il pane aveva una certa saggarità. Il forno si prediceva, sul forno si trovava incisa la croce o le iniziali SC, che non erano il nome del costruttore del forno. Era le iniziali di Signum Cruce, mi pare che significa così. Poi, intorno al forno c'erano delle leggende. Non si assalva una pietra che si muovì al migliore che non mi aveva capito. Non si faceva la croce sopra il pane con un pietra, perché il pane rappresentava il corpo di Cristo, la sacra, e si offendeva il pane con il ferro. Oggi, se vedete, si uccide probabilmente con il portello. Perché a farlo con il portello si faceva con il cucchiare di legno? Il pane non si buttava. Il pane era grazie a fisca, che non debba svasare e sbagliare. Se cadeva un pezzo di carne, magari si aveva mangiato il pane, ma il pane non. Il pane si recuperava tutto. Si faceva Quasala, si faceva Quangholt, si faceva tutto, ma non si buttava. In verità, Quasala, come vi ho detto, probabilmente nasceva dal fatto che si facevano le zuppe di pane. Poteva essere anche che, siccome il pane era piuttosto duro, malcotto, spesso era panlitz, cioè con un lievito non proprio buono. Insomma, per mangiarlo qualcuno che era senza denti, il primo anziano, aveva necessità di un buono e un altro altro. Non è capo che pare niente di meno. Immaginate uno senza denti che cosa voleva fare. Bene, a questo punto vi è abbastanza chiaro che il pane, essendo il cibo principale, era anche la base per tutto il resto dell'alimentazione. Per dare un'idea, quando si andava a lavorare in campagna, si picchiava il pezzo del pane, si scalava in mezzo, se metteva ciancotto alla sera prima e si portava, e quello era diventato infanzi. Comunque, a base di tutto il pane. Vi aggiungo anche che, oltre a questi cibi, nei giorni di festa si mangiava qualche dolce. I dolci erano permanentemente a Natale, a Natale, però, curioso. A Natale invece smagnarono il canestretto e i ciceletri, che poi erano pasta di pasta, pasta sfoglia, fritta nello strutto. Niente di speciale. E poi vengono annullati da un volumiere nuovo con il mostocotto. L'ultima cosa di cui vi dovevo parlare è la del vino e dopo di che... Il vino, intanto in diretta, si chiama Miele e viene dalla Vino, che significa Vino Puro. Il vino, tra i Romani e i Verci, il nostro vino è di origine greca, i litini sono di origine greca. Ma tra i Romani e i Verci si beveva un vino prevalentemente adacquato. Una parte di acqua quando si ci voleva ubriagare, due parti di acqua quando si voleva stare più o meno a l'equina senza ubriagarsi. Da noi il vino si faceva così. Si scalzava l'uva, andava guaiato per quei piedi. Dopodiché si lasciava fermentare e poi si faceva lo strugnitur, che era il vino che si beveva il vino più scalente. Era l'acqua aggiunta alle vinacce, agli acidi schiacciati alla vinaccia, che rimaneva a fermentare. Soprattutto prima lo strugnitur e poi lo strugnitur. E naturalmente c'erano diverse storie su come si racconta sia nato il vino. Veneto, dico lui, brevemente e sopra. La prima è di origine greca. C'è una commedia greca che racconta di come Bacca dice come si beve il vino. Lui neve i ganici, io vi dico solo tre calici di vino. Il primo calice si beveva per la salute, il secondo calice per attivare la pulsione amorosa, il terzo calice per il sonno. Invece per i cristiani, che avevano dovuto uscire nelle cose che si raccontavano, il vino era nato per noi. Che era neanche andata su sta pianta, e aveva innaffiata con sangue di leone, sangue di asno e sangue di maiale. Per cui chi se ne roviene a bocchino, se senti a bocchino. Chi se ne roviene a bocchino, se senti a bocciucci. E chi ne roviene a bocchino, se senti a bocciucci. E chi ne roviene a chiostare, era fin un bucchio. Grazie mille. Grazie mille. Sono stati d'appello dei maestri, non ci sono parole per descrivere sia l'angolo, sia le bellissime illustrazioni che Carmen ha fatto per il colmento. Volevo ringraziare Domenico Grosso per averci dato, oltre le bellissime immagini di advertorio, anche per il bellissimo video che abbiamo visto in apertura. Ringrazio Dito Romaniello, il cognato di Domenico Grosso per i video di quattro quadri di scena pubblica che vediamo sempre nella mostra. Ringrazio Mancini per averci fornito alcuni dei vitenzi che vedete lì in mostra. Ringrazio Giuseppe Siero per aver tradotto in musica quelle che erano le nostre idee del nostro progetto. Ringrazio tutti i giovani del forum che hanno partecipato. Mi piace ricordare Antonio Bocchicchio, Marianna Morlino, Maria Lambella, Francesca Pace, Maria Carmela Giuliani. Se ho dimenticato qualcuno, mi devo scusare, ma comunque te lo ricordo. Ringrazio voi qui presenti, perché vedo che siete molto numerosi e forse l'iniziativa mi ha interessato e mi ha fermato. Ringrazio Dito Romaniello, grazie a tutti.